Il video che state per vedere parla di sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro. Si rivolge ai tanti lavoratori del comparto delle carni ed ha come obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico e di garantire la sicurezza degli alimenti. Igiene delle mani. Abbigliamento e comportamenti. Uso del coltello. Rischi ergonomici. Posture. Movimentazione manuale dei carichi. Principali macchine in uso. Questo video può essere mostrato direttamente ai lavoratori o utilizzato come supporto per la formazione degli operatori del settore. Per maggiori informazioni e per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo a questi siti internet. Punto da